Benvenuti al ristorante Le Vie del Sale sul comare di Sanremo, dove innovazione e tradizione si sposano per dar vita a piatti unici che attingono dalla cucina a Piemottese e Ligure. Vi aspettiamo! Benvenuti nel Lit Car, punto vendita ufficiale Mercedes-Benz con assistenza e vendita. Qui da noi potrete trovare tutto il mondo Mercedes-Benz e siamo a Magenta in Corso Italia 40. Martedì 12 febbraio, questa sera inizierà il Festival di Sanremo 63esima edizione. Noi siamo davanti a casa Sanremo, dove in questo momento si stanno susseguendo tantissime conferenze stampa dei cantanti che si esibiranno stasera. Ricordiamo che stasera si esibiranno i big e verranno presentati gli otto giovani. Noi invece adesso andremo in giro per la città a scoprire come cambia durante la settimana del Festival. Come cambia la città durante il Festival? Sempre movimento, sempre gente che è avanti e indietro, vanno avanti e indietro. E' molto più vivace, c'è molta più gioventù e si sta molto bene. Una canzone del passato che lei ricorda? A me piace la mena, per cui. Angelo di Renga. Cantacene un pezzettino. Angelo, prenditi cura di lei. Ah, guardi, tutti quelli di Morandi, che siamo cresciuti con mia moglie con quelle canzoni di Perdere l'amore di Massimo Oralieri, è troppo bella. Signora, ce ne canti un pezzettino. Perdere l'amore quando si fa sera. Poi basta. Dai, un pezzettino. A me è piaciuta tanto, Maledetta Primavera, cantata da Goji. Una canzone che ti ricordi del passato? Beh, quella di Lavora Pausini, beh, tutte. Cantacene un pezzettino. No, no, no. Festival di Sanremo, la 73esima edizione. Ancora non abbiamo sentito le canzoni, ma tu te ne ricordi una che ti è piaciuta particolarmente? No. Non lo guardo. Adesso così non mi ricordo, però già di Arisa dell'anno scorso me la ricordo bene. Benvenuti al ristorante Le Vie del Sale sul Gomare di Sanremo, dove innovazione e tradizione si sposano per dar vita a piatti unici che attingono dalla cucina a Piemottese e Ligure. Vi aspettiamo. Carrozzeria Fagioli. Siamo a Nerviano, in via Milano 111, statale del Sempione. Da noi qualsiasi tipo di lavorazione. Rapporto prezzo-qualità imbattibile.